ciao a tutti benvenuti nella cucina di angela ricette casalinghe oggi vi ho preparato i funchi champignon fritti che possono essere sia un contorno che un antipasto andiamoli a preparare insieme dopo aver tagliato il gambo eliminato eventuali residui di terra sbollentati per qualche minuto e lasciati raffreddare infariniamo per bene in questo modo in un piatto poi mettiamo due uova e un po di sale e con l'aiuto di una forchetta sbattiamo le uova a cui poi aggiungeremo i funghi champignon nel frattempo in una padella mettiamo abbondante olio di semi e quando sarà diventato bello caldo immergiamo i funghi e li facciamo friggere finché non assumono un aspetto dorato poi li adageremo in un contenitore con della carta assorbente che servirà appunto per assorbire l'olio in eccesso ed eccoli qui i miei funghi champignon veramente molto gustosi e molto sfiziosi ciao alla prossima ricetta